Straordinaria scoperta archeologica nel centro storico di Teramo, esattamente in via Rai Nero, piccola traversa di via Capuani. Durante i lavori di scavo per l'installazione dei cavi della fibra ottica è stato rinvenuto uno scheletro. La zona è stata immediatamente transennata ed è stata allertata alla sovrintendenza archeologica ad Abruzzo. Un rinvenimento inaspettato e stupefacente, ha dichiarato a TV6 l'archeologo Vincenzo Torrieri. Non ci aspettavamo che a Teramo ci fossero delle sepolture tanto antiche. Lo scheletro si presenta in posizione fetale, un rito che risale al quinto millennio avanti Cristo. Ora però i resti dovranno essere analizzati e datati precisamente. Ma com'è possibile che qualcuno venisse sotterrato proprio nel centro storico? Millenni fa questo non era certo il cuore della città, spiega ancora l'archeologo Torrieri. L'attuale zona di via Capuani si trovava fuori le mura di Teramo. Immaginavamo ci fossero delle necropoli e adesso ne abbiamo la conferma. Siamo sorprese però da quanto siano antiche.